Buongiorno a tutti ragazzi, bentornati sulla Infinity. Allora, cosa dire, cosa dire, cosa dire. Oggi voglio fare, ho fatto un po' di roba di là, ma non voglio spoilerarvi, quindi cercherò di non passare proprio di lì così, non vedete nulla. Perché a breve inizieremo un paio di mod, inizialmente una mod, poi inizieremo anche altre due mod fighe, però, mi ripeto, non voglio spoilerarvi nulla. Cosa facciamo oggi? Oggi facciamo una cosa della Applied, due cose della Applied innanzitutto, che funzionano insieme, quindi uno non può funzionare senza l'altro. L'ME Security Terminal, che è questo. Quindi bisogna fare un ME Chest. Vediamo che cosa manca. Ok, questo lo possiamo fare, perfetto. Quindi così. Questo ci manca, che è quello da 16K. Quindi... non queste. Che palle che mi usa sempre le pure. Allora, quello da 16K. Quindi ne fermano tre. 6, 6, 9, non mi ricordo, 1, 2 e 3. Sì, giusto. E così. Oh, perfetto. Fatto. Ok, e poi, questo qua, quindi ci serve un altro di questo. Molto semplice, vi spiego che cosa serve, eh. Potete che stiamo qua a spiegarvelo subito. Ok. Questa l'abbiamo fatta, sì. No, non l'abbiamo fatta quella. Ok. Ma l'ho fatta o no? Porca miseria. No, non l'ho fatta. Eh, vedi. Mi manca questa. Quindi così, nel my chest. Oh, una bella. Così. Oh. Poi, poi dobbiamo fare, eh, donde sta? Donde sta? Eccolo qua. Wireless terminal. Questa è una portable set che non ci serve. Network tool non ci serve. Eh, non c'era la crafting anche da poter fare. La crafting terminal, no, eh. No, sarebbe stato figo. Però, niente, facciamo la wireless terminal. Allora, per fare la wireless terminal serve questo. Per fare questo, serve questo. Quindi, ne dobbiamo farne due di antenne, ok? Quindi, Eh, poi vi spiego il perché. Ne servono due. Quindi, così. Una. E due. Questo, dobbiamo rifarlo. Eh, quindi, sapevo io che ci mancava della roba. Allora, questo cos'è? Charged staff. Non mi interessa. Eh, ah, minchia. Dobbiamo fare questo. Quindi, così. Quindi, ci mancava quello lì. Questo qua. Così. Poi, così. Poi, così. Ok. E poi questa. Queste si fanno così. Sempre col pure. Che palle. 8, 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Va che culo. Va che bis del dos. Allora. Poi, no, questo l'abbiamo già fatto. Wireless, 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 wireless. Wireless. Qua. Così. Così. E così. Ok. E ora possiamo fare wireless. che si fa in codesto modo. Ora. Ah, vedete che si autocarica in automatico. Perché abbiamo il solito wireless. Charged. Poi, dobbiamo fare l'antenna. Che è. Reanimation plane. Non ho idea di che cosa sia. Però non ha detto la nessuno. Allora. Dobbiamo fare l'antenna. Che è. Eccola qua. Questa. Così. Perfetto. E poi dobbiamo fare queste qua. Ma ora, queste qua. Più ne facciamo. E più consumano. Ok. Quindi adesso prendiamo un po' di enderpearl. No. Che ho. Perché le sto prendendo da qua. Ho fatto la farm. Cazzo. Eh. Guardate qua. Gremiamo un po' di enderpearl. Perché vanno. Gremate così. Ci serve la polvere. Prendiamo anche un po' di polvere di questa. Perché non so quanto me ne è rimasta. Non tanta, infatti. Quindi polverizziamo anche questa. Appena finito quello. Ok. Uno sedici per il momento. Che sono uguali a quelle delle perle. E abbiamo detto che dobbiamo fare appli ed. Queste qua. Allora. Solita roba. Due coglioni. Ok. Ne facciamo. Quante più riusciamo a farne. Quindi buttiamo dentro questa. E facciamo così. 32. Sono un po' pochine. Però. Allora. Vi faccio vedere cosa serve tutta questa roba. Poi man mano la potenziamo. Allora. Andiamo dietro. Solito. Vediamo se si attacca questo. Tipo così. Sì. Uh che culo. Vediamo se si è acceso. Sì si è acceso. Sì. Ok. Vedete. Adesso ha un raggio di 16 metri. Consuma 8 tic di energia. Ma se io gli metto queste. Ha un raggio di 197 metri. E consuma 189. Se gliene metto ancora. Energy unit. Redstone Flux. Ah ecco. Vedete. Ha il Redstone Flux. Insomma 378 tic al secondo. Ok. Però ha un raggio. Abbiamo detto. Di 197 metri. Che è abbastanza per il momento. Poi prendiamo questa. Io la mettiamo qua. Che si collega. Ah ecco. Però ho dimenticato una cosa importante da fare. Che è la card. Applied. La card. Questa card qua. Serve. La biometric card. È fighissima. Perché la facciamo subito. Serve praticamente per bloccare l'accesso all'applied. Quindi la bloccate. Che solo voi potete utilizzare tutto quello che c'è all'interno dell'applied. Perché se no. Se siete in un server. Arriva un chiunque. Trova casa vostra. Entra dentro. Apri l'applied. E vi fotte tutto. Ok. E invece così non si può fare. Perché noi gli mettiamo questa. Vedete la biometric card. E gli diciamo. Security. User. Che è un sistema di modificare solo lo user. Vedete. Può accedere e modificare il terminal network. Solo user può usare network. Ok. Facciamo così. Crafting. User. Ok. Removitem. E user. Ok. Solo noi possiamo fare tutto. Praticamente. Ok. Poi prendete la vostra wireless terminal. La mettete qua in altro. Lui la passa dentro. Vuol dire che l'ha. Come si dice. Allineata. Ok. L'ha allineata con il. Il macchinario. Infatti. Se noi adesso facciamo così. Tasto destro. Oh. Guardate qua che bello. Abbiamo tutta la nostra. Roba. Tutta. Vedete che è una figata. E' o non è una figata. Dai. 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 Sincero. Quindi. Se noi prendiamo e ce ne andiamo. Voglio passare da lì perché non voglio farvi vedere. Ok. Allora ce ne andiamo sul tetto. E ce ne andiamo di qua. Così non rompete le balle. Non vedete. Vedete. Tac. Fino a qua fuori. Ancora. A 197 metri sono tanti comunque. Ancora. Sì beh. Ecco. Vedete qua siamo out of range. Quindi. Ora torniamo indietro così. Così non vedete lo spoiler. Ah ah. Ehm. Ok. Così si è già. Si è ripreso. Quindi noi siamo in giro. Ah no. Così lo vedete però. Vabbè. Lo vedevate lo stesso della mappa. Quindi vabbè. Lo faccio. Vedete la mappa una struttura. Un pezzo di struttura nuova. Ma non sapete che cos'è. Quindi va bene così. Ehm. Ok. Perfetto. Siamo dentro. E basta. Questo è quanto per il wireless. Così noi siamo in giro per la casa. E possiamo tranquillamente accedere. Vedete. Magari ci servono dei cavi. O cazzate varie. Possiamo tranquillamente accedere. Al. A tutta la struttura. Io sto camminando di lato. Perché così voi non vedete. Niente. Poi. Cos'altro possiamo fare oggi. Cos'altro possiamo fare oggi. Ho pensato a qualcosa da fare nel mentre. Giusto per concludere la puntata. Ma non me lo ricordo più. Porca miseria. No basta. Basta. Direi. Direi basta. Ehm. In realtà veramente c'era qualcosa che volevo fare. Però non mi ricordo più. Vabbè niente. Non mi ricordo più. Direi che possiamo concludere qui la puntata. Per oggi è tutto. Grazie a tutti. Ciao.